Dostiglio, lei qualche mese fa aveva detto che Amare Pescara era fuori dalla maggioranza al comune di Pescara. Nelle ultime ore c'è stata una federazione tra Amare Pescara, rappresentata in Consiglio Comunale, da Bernardino Fiorilli e l'Udc. Lei, alla luce di quanto è accaduto nelle ultime ore, oggi torna a fare delle precisazioni importanti. Ribadisco per la terza volta, e sia l'ultima volta, Amare Pescara è uscita dal Consiglio Comunale. A ottobre del 2020, ribadita a gennaio, e lo ribadiamo per la terza volta. Questo accordo, la federazione Udc e Amare Pescara, è un accordo che la lista civica Amare Pescara non conferma, non condivide, non c'è nessun accordo. È un'iniziativa personale del Consigliere Comunale Fiorilli, a cui ricordo che sì, è stato eletto in Amare Pescara, ma è un indipendente non iscritto nella stessa lista civica. Quindi, Amare Pescara non può essere utilizzata da persone che stanno fuori dalla lista stessa. Chiarimenti immediati da parte del Consigliere Fiorilli, che ha dichiarato sulla stamba, è stato detto, separate del passaggio suo all'Udc. Allora, io chiedo al Consigliere Comunale che dichiare il suo passaggio immediato all'Udc, oppure si dimetta da Consigliere Comunale di Amare Pescara. Amare Pescara non è più rappresentato in Consiglio Comunale. Per ribadire un'altra volta che Amare Pescara non fa alcuna federazione con partiti politici nazionali. Chiamiamo a raccolta le varie associazioni locali, culturali, come è stato fatto qualche mese fa. Qualche associazione locale già ha preso condatti con noi di Amare Pescara, per fare un gruppo unico, per qualsiasi evenienza, non solo dal punto di vista politico, ma per tutto ciò che può riguardare, interessare e servire alla città di Pescara e al suo popolo.